Il mio obiettivo è raccontarvi prima qual è l'idea alla base di questo progetto Unpacking e poi devo anche introdurvi un po' al nuovo format di SMAO. Allora, l'Unpacking, in realtà la mia idea è, voi sapete che le fiere in Italia hanno avuto un ruolo strategico e direi dai primi del Novecento in avanti, in quanto abbiamo una presenza di piccole e medie imprese da sempre, fisiologica, che trovano nelle fiere un momento di aggiornamento, informazione e incontro con il mercato. Fiera Milano è una fiera leader nel mondo, ma essere leader non vuol dire essere aggiornati o innovativi. In un momento comunque di grande discontinuità, dettato da questa crisi mondiale, che però vede anche dei cambiamenti importanti, quindi anche degli aspetti positivi, io credo che la dimensione del blog e della blogosfera della rete vada considerata in maniera estremamente attenta. Una volta la fiera aveva un ufficio stampa, che è ancora attivo, insomma è lo spazio in cui siamo ospiti oggi, quindi voi sarete i nostri ospiti anche domani con grandissimo piacere, ma io credo che come sempre comunità emergenti poi vadano trattate in maniera adeguata. Allora, di questo appuntamento di oggi, in realtà, di Web 2.0 c'è molto poco. L'idea, la mia idea era dedicare proprio un canale privilegiato di un giorno prima, quindi vedere la cucina, raccontarvi un po' il ghetto le quinte, ecco, quindi vedete estremi, l'allestimento, operatori, è una cosa un po' nuova, però era il mio fortissimo desiderio costruire con voi nei prossimi anni una dimensione adatta al vostro mondo. Per farlo abbiamo ideato questo unpacking, che quindi vi dicevo non è ancora così evoluto o sofisticato, è un'apertura a una comunità che a mio avviso deve avere un momento privilegiato di accesso alla mostra e quindi io mi sono messo e sono a vostra disposizione anche dopo per domande e incontri, ma ho chiesto ai vari attori che partecipano alla SMAO di a loro volta aprirsi a voi in questo rapporto che in realtà rispetto al mondo dei media tradizionali è molto più sofisticato, è senz'altro un rapporto a due vie, perché voi in qualche modo rappresentate e avete tutti una comunità di riferimento che vi segue molto, quindi non è certamente il tradizionale mondo editoriale fatto di un sistema, a cui arriva solo un output, ma è un sistema che consente anche molti feedback e quindi per noi avere i vostri feedback è fondamentale.